I sacrifici li facessero non solo i cittadini ma anche i membri delle istituzioni perché non sono momenti in cui fare demagologia, non sono momenti in cui prestare il proprio narcisismo alle fotine, alle dirette, alle mascherine con un sorriso di plastica sotto insomma noi sappiamo come molte volte dietro un buonismo si nasconde molto alto questa scena, queste scenette tragicomiche ahimè molte volte ne siamo stati abituati quindi barra dritta, forza, coraggio, arditezza e soprattutto teniamoci uniti, uniti che ce la faremo